musica 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 stanno winando come due stronzi no, ci sono rimaste cose cerca con... oh, datevi tutti i vostri soldi stronzi tutto mio prendi prendi ok, grazie ragazzi swordpark questo si rompe? ehi, ciao! mi serve non possiamo diventare amici finché non lo avrai ah, ma che di buono oh, lì c'è il coso clif ah, non è servito un cazzo qui che serve? niente di qua non si... oh, si va, si va rompiamo un po' di roba qua per vedere se c'è qualcosa qui non c'è posta lo fogliamo un po' in tutte le case, per esempio qui non si può andare ok, qui per questo qui c'è qualcosa c'è il buco? no, ci può andare qui c'è un tubo oh, qui si può aprire vediamo cosa si potrebbe ancolare qua vediamo lì c'è il coso leuti fammi prendere il tesoro gavettone su che non si può rompere fatto pallone plastica distrutta vediamo voglio ricontrollare un attimo se si poteva aprire questo garage ok falso allarme dai corri non cazzo può fare nulla allora ok è questo ciao veramente sono più veloce a scrivere messaggi su facebook che a parlare ecco, faremo molto più in fretta se accetti le richieste d'amifizio ok aspetta che ora devo romperti ti ha inviato un nuovo messaggio ti rompa un po' a casa non ti preoccupare e anzi ok cazzo what the fuck no ancora ancora oh perchè c'era una mamma nuda perchè tua mamma è tipo nuda lì hai un nuovo amico ok ecco così è molto più facile che parlare comunque mi sento proprio come te ho una vera connessione eh va bene non niente bastone della verità dobbiamo reclutare più gente qui mmm c'è della roba e c'è anche un cesso perchè voi avete un cesso nel garage ok ma lì c'è il brillantino no aspetta è questo mmm non mi sfugge niente ora sarà un problema di scendere oh te che cazzo ci fai qua aspetta ti inculo il tesoro sei nuovo? eh questo significa che non sei si lo so ma voglio prendere il tesoro 1 2 ok scendi oh ce l'ho fatta attenzione ok rompi questo e questo qui dovrebbe essere cosa? ops scusa non l'ho fatta scusa non volevo farti dire male aspetta magari si entri qua ehi possiamo parlare? oh così ehi ah ah ok non vuole parlare ok ritorniamo alle quest ma l'ho fatta 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 vedere la collezione sicuramente di ottenere tutti no ma io voglio vedere la tipa aha quest oh c'è biglietti lettere di trick ma come le faccio a vedere? oh amici e se gruppo butters ah tutti i personaggi qui ma vita ma ci ha parlato e ora? oh mio dio abilizione ambientalio ma si lo so quest ma l'ho fatta ma questo è dove sono io sto capendo più che faccio ehi un po' più in là mi raccomando vabbè con te ci ho parlato con te non si può sapere più che vuoi qui si rompe questo facciamo che andiamo un giro un po' da tutte le parti tanto qui si rompe il pallone qua qui si rompe questo questo si rompe questo si rompe questo si rompe la porta beh non può giocare in punizione mi pare che aveva fatto il dito alla preside qualcosa di simile meglio recuperare gli altri prima ok ah quindi ok niente avevo sbagliato io a casa perchè c'è un evento qui oh che figata cazuridi sto cercando di rompere qualcosa eh se che non si rompe ehi vieni qua vieni qua vieni qua ahahah bellissimo mmm la trombetta quartiere ah è per il passaggio ok voglio vedere il bandiere del viaggio rapido qui che mi dicono salve oh no ci stanno gli agiggini quelli dei cartoni animati loro eh vi rompo questo vi rubo quello la pupù che fece la pipì l'ho ritrovata spingiamo il televisore perchè mi sta sui nervi rubiamo i soldi tranquillo non se ne accorgerà nessuno che gli sono sporati i soldi qui non c'è niente oh la scopa oh non c'è nessuno per avere qui lo sporba tranquillamente è tutto mio ruba tutto qui c'è un caffè piatti il caffè così viene da di matto ok ora andiamo di sopra sembra Spock o forse è un'ascitazione mettiamo il vetro si c'è il vaso ehi no sembra più da vetro è Spock da piccolo home for in versione South Park oddio si infatti c'ha qualche assomiglianza su Star Trek ok mica per nulla oh c'è questo c'è questo ok qui che c'ha una roba di Clinton con tanti ti sto rubando tutto anche a te eh non ti fare caso microchip ma sembra qualcosa queste cose ti ruba il quadro dell'aliena sarei umano anche se per filare esplorare strano il mondo con te sarebbe illogico abbandonare il ponte prima di ritorno del capitano quindi il capitano sarebbe mia mamma non posso uscire da quanto in quella casa ma la federazione ha una missione agente per te mi chiedi che c'è di no solo che non è un tipo quasi di mio padre voglio che ti tagliate al spazio sul settore amico e individui il testo prima che il cuore di mano è il quinto credo che sei così eh? non ho capito un cazzo di quei ho capito solo che devo recuperare un ipad ma ci stanno prendendo tutto comunque mutando oggetto della quest cioè devo andare in giro a culare le mutande alla gente ok ehm ah non è successo niente era apparsa un cos poi vediamo qui che c'è ma come ha chiuso la camera questo è il vaso che non si rompe un altro cesso e un'altra cata dai dai che ne da dai cag... no 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 devi cagare no no non è successo niente quindi dai 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 caga cazzo c'è il culo di stretto che cavolo dai oh lo so che si schizza vuol dire che esprime un bisogno però qui c'è sempre la storia dolce che me la fa usare però lo spiego un cazzo ok bussa tutto ruba qui con tanti siiii ma vai tanto siamo arrivati a quota 60 dollari mmm lo dovrei fare anch'io questa cosa andare in ok alla cucina non ci siamo stati vero rompiamo questo si si mi parli si 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 rompiamo la scopa tanto oh no no allora non ci siamo stati se mi dà la roba boh vabbè andiamo si si perchè ci sono gli armadi aperti ok mi devo stapparli molto vecchio rompiamo questo andiamo in tutto e andiamo di la ma che vuol dire questo cosa vuol dire che fa l'autosalvataggio non ho ancora ben capito ok ho trovato un tappo che non ho idea di che mi possa servire poi lì ci sta una borsettina e qui ci sta un ok ci sta un'altra cosa però prima vuoi vedere che c'è qua e lì c'è una finestra aperta gavettone, pozioni di cura, gravellacalac e qui ci si trovi sicuramente un tesoro ah no è uno di quegli agicini oh raccogli perchè non me lo fa prendere? dai dai forse facendo così no ma che ha il fango ah ho capito boh non l'ho capito ci sta che ora non si può prendere ma lo fa prendere più avanti che cavolo oh mio dio ah e lui non si brucia tranquillo qua non si può ancora andare e c'è un tesoro però eh forse c'è un modo per bruciare tutto lì una specie di enigma ah si giusto appunto no di qua dall'altra parte come no? pensavo e come fa ad andare a quel tesoro lì? devono imprire quelli con la griglia di sicuro aspetta magari ci da fa un giro strano boh non l'ha capito entriamo in casa oh mio dio ok era meglio se non entravo ci vedete che però anche vuoi lasciare la porta aperta così no forse ci sarà tipo da prendere una pozione super di potenza ah boh vabbè noi andiamo avanti rompiamo questo e andiamo avanti si vi rompo tutto mamma mia che vandalo tanto la pagano loro c'è un tipo strano che si gira tipo no li ho tirato una vazzata un'altra volta non volevo vabbè volevo andare un po' di pasta di neve beh non risponde è come se boh non esistesse stesse ma se lì non serve niente ok allora dobbiamo solamente andare in giù oi ehi un'altra volta sti stronzi qui e non mi rompete con gli ombali tanto lo sapete che ne beccate si si dai 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 vabbè che aia di morta ha fatto il triple attacco aio mo ti fa vedere cosa ti lancio e palapapa vai a casa poi vediamo la tet... tetty fulminor il mazzaro di Thor uguale si si dai vieni vieni attaccami stronzino liscio liscio e ora come la mettiamo? ah l'ha curato lì morta ehh pecca questo piti 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 oh piti piti ah non mi dici becca sta martellata ahi ah è vero era un botte risposta non c'avevo oh buono liscio ora tiriamo un altro archino a lei ho sbagliato tempo affoncuffia vabbè via lui che è più più debole ssh veste da da un punto di vista che avevo oggi ho fatto 44 danni ah che sono morto ma vai a cuccia come t'ho fatto basciare il terreno tanto il mio mino è lì giù per terra e ora datemi tutti i vostri saldi bastardi prendi ehi ciao oh mio dio che dito un culo che sei andiamo oh c'è qualcosa la dietro come si fa ad andarci ah forse ho capito forse ho capito forse ho capito levati dopo devo capire come prendere quel tesoro oh c'è una mina che passa fermo ehi ehi posso ho detto fermati ah non ti fermi eh eh ti do la notte a vivere su facebook spero che un sacco di foto di gatti perchè foto di gatti tons vate la pesca ok la scuocca può inventare un sacco di noi amici alcuni potrebbero chiederti no per favore perchè ci sta quello di michael knight vabbè di kit oppure dei vabbè di supercar oppure dei cosi com'è che si chiamavano poi dei bagnini vabbè 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 ti rubo tutto ah questa qui è la mamma di kai mi pare che si chiama oh ciao ti interessa una vinoclastica eccoti una ehh compra vende accessori ah qui ti fa il coso vendi cestino vendi tutto non c'è il tipo vendi tutto vabbè ti fai così al microchip e questa roba qui dovrebbe servire qualcosa non penso che ci sarebbe da vendere così a caso vabbè si ho capito vattene ciao qui non si può arrivare niente qui c'è ah no qui c'è qualcosa e poi qui vi ho detto vieni qui oh trucco glam retro ok qui non c'è niente andiamo a vedere che c'è qua oi è chiuso qui c'è la chiave no per caso scelta si dimmi eh ti più abbastonata sai non mi rivolgere mai più la parola ehh salve oh te con il telefono si lo rompo ehi scusi vabbè vabbè vediamo che c'è qua e la combattimento può usare l'opzione esamina ok intanto abbiamo questo madonnina poi abbiamo questo pozione della rinanimazione poi qui si può rubare oh scusi non ci faccio caso sto li fa pulizia un attimo eh ma faccia come se fosse a casa mia come c'è un tubo come c'è un tubo carta stropicciata come ne fa di nulla belvo non c'è un cazzo possiamo anche levarci dal vuolo e rirrompere questo oh c'è un tifo bastardi muori bastardo muori schianta muori 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 niente devo per forza beccare mi sa ma qui c'è un altro di quegli affari quello aspetta vediamo se li distraggono mi rompono il caspita esatto mamma mia che genio qui non c'è un kaiser ok ma qui c'è un altro tipo al telefono non c'è un altro tipo al telefono non c'è un altro tipo al telefono questo è il posto dove è non so ci stare a leggere eeeh riempiamo questo poi 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 c'è un altro tipo preservativi barcellini big momma eeeh aspetti sarà presto da lei sto raccogliendo un po' di roba ciao tu sbagliati a incinta qualcuna no 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 perchè fammi entrare ho detto fammi entrare vediamo se entra entra ora entra ora ok non si può fare un cazzo l'ho detto ciao a tutti ti ho curato i preservativi del cassettino basta avanti oh però qui è sparito il bimbetto che era qua andanati bambinetti poi ci sta qui foto dojo foto gioco foto gioco gioco che resti tra di noi ok perchè siamo in ottimi amici eh ok quel che c'è tizio qui amo di vampiro oh il caso delle macchine fotografiche bene non mi interessa ah perchè sulla parte del sofote qua sopra oh mio dio oh mio dio dammi saldi macchinetta qui c'è questo oh qui c'è una macchina fotografica la rompo oh qui c'è una macchina fotografica vabbè che ci devo venire a fare qua dentro guardia che foto oh ci sta Kyle se così si chiama cioè a cartone travestito da papa lì così no grazie non mi interessa ti rompo questo e devo dirlo no non posso andarci ok ho trovato solamente un paio di robe e basta oh c'è da una roba lassù sarà bene che si fa ridire se no voglio prendere quello come cacchio lo piglio quello lassù devo prendere quel coso lì come caspita ci arrivo via 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 oh un'altra torino a fare qua qua qui c'è questo vabbè di là si è andata un'altra scena voglio vedere che c'è di qua vai fermata di là Vole cosa c'è?